A una settimana dai campionati italiani su gozzi nazionali in vetro e resina, in programma il prossimo weekend a Santa Margherita Ligure, una prova generale andata in scena ieri, domenica, a Moneglia, in occasione della gara organizzata da Emoniglia Canottaggio, in collaborazione con Comune Proloco Consorzio Moneglia Nuova e Croce Azzurra, con in mare le varie categorie juniores maschili, femminili e signores maschili. Tra i 19 equipaggi iscritti, da segnalare la presenza di ben due equipaggi Spezzini, la femminile e i senior, in rappresentanza della borgata marinara di Fossamastra, che partecipa al Paglio del Golfo. Altre nove società in acqua, in rappresentanza della provincia di Genova e del Tigulio, oltre agli isolani di Porto Azzurro, provenienti dall'Elba. Anche oggi siamo presenti qua a Moneglia, perché quest'anno con il Fossamastra abbiamo deciso di iniziare una nuova esperienza con i gozzi nazionali, grazie alla TAROS che ci ha sponsorizzato e ha dato un modo di comprare il gozzo. Abbiamo già fatto la prima gara a Lirici, dove siamo risultati primi sia nelle donne che nel senior, e adesso siamo ad affrontare la seconda prova a Piamoneglia, prima degli italiani, che si svolgeranno domenica prossima a Santa Margherita. Un'esperienza bellissima, dove abbiamo due equipaggi in grado di combattere con tutta la loro forza, con tutti gli altri armi, e contiamo di fare un buon risultato anche qui, sia alle donne che con il senior. Per l'occasione, gli organizzatori hanno deciso di devolvere una somma attraverso il ricavato delle iscrizioni alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.